La prossima non sono gli stedi, divieti non solo errori ma sostegno ai progetti Dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, supporto pratico, questa è la mia pista Procedure migliori, carico i adolescenti, aiutano il lavoro, sono strumenti vincenti Non solo divieti, ma passi da seguire, per lavorare in sicurezza senza mai fallire Coinvolgere i lavoratori, una chiave essenziale, chi meglio di loro sa cosa è cruciale Descrivere i passaggi, spiegare il perché, così la sicurezza sarà sempre con te Procedure migliori, carico i volgenti, aiutano il lavoro, sono strumenti vincenti Non solo divieti, ma passi da seguire, per lavorare in sicurezza senza mai fallire Coinvolgere i lavoratori, una chiave essenziale, chi meglio di loro sa cosa è cruciale Descrivere i passaggi, spiegare il perché, così la sicurezza sarà sempre con te Procedure migliori, carico i volgenti, aiutano il lavoro, sono strumenti vincenti Non solo divieti, ma passi da seguire, per lavorare in sicurezza senza mai fallire Un anno del formaggio, spizzero, insegna a prevenire Con più livelli di controllo, gli errori non faranno fuggire Creare una cultura di sicurezza è fondamentale, motivare e responsabilizzare Tutto diventa normale Procedure migliori, carico i volgenti, aiutano il lavoro, sono strumenti vincenti Non solo divieti, ma passi da seguire, per lavorare in sicurezza senza mai fallire Procedure migliori, carico i volgenti, aiutano il lavoro Sono strumenti vincenti, non solo divieti, ma passi da seguire, per lavorare in sicurezza senza mai fallire Convolgere i lavoratori, una chiave essenziale, chi meglio di loro sa cosa è cruciale Descrivere i passaggi, spiegare il perché, così la sicurezza sarà sempre con te Procedure migliori Procedure migliori Procedure migliori Grazie a tutti.